Grazie a tutti 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 Il 25 aprile 1945, alle 5 pomeridiane, sono arrivati a Savona i partigiani. Noi stavamo alla finestra, ci venne chiesto del materiale di medicazione che noi fornimmo volentieri. Il 26 ci recammo al lavoro alle ore 6, al nostro ingrosso di frutta e verdure, accompagnate da un vetturino, Merici, abitante in via Saredo, accanto a casa nostra. Arrivati a San Michele fummo fermati da due partigiani armati di Mitra, uno rimase a guardia di noi e l'altro andò a telefonare in un garage, del signor Filippo Cuneo. Venne un tale che si qualificò come tenente della polizia partigiana. Uno dei partigiani, De Benedetti Giuliano, volle che fossimo tradotti al campo di prigionia di Legino sotto scorta armata. Venne disarmato del coltello da lavoro che abitualmente portavo dietro. Arrivati al campo di Legino, luogo di morte di tanti poveretti, fumo contattati da un certo piovano, abitante a Savona in via Valletta San Michele, attualmente operaio delle ferrovie statali, il quale ci sequestrò le chiavi di casa e del magazzino della nostra merce. Dopo circa mezz'ora fu tradotta al campo anche mia cognata, coabitante con la mia famiglia. In questo modo la casa e il magazzino furono dei predati di tutto senza testimoni. Per portare via tutto, sono stati usati camion e carretti. Anche dalla casa sparirono oro, argento e denari. Il 27 aprile, verso le 10 del mattino, i partigiani del campo minacciarono di morte mia moglie per sapere dove fosse la mia bambina, di appena 13 anni. Terrorizzati, consentimmo di accompagnarli a prenderla dove essa era, presso dei conoscenti in via Paolo Boselli, 6 interno, 8 Savona. Accompagnata da un brutto ceffo, certo Guerci, abitante a Zinola, operaio Ilva, la presero e la condussero al campo. Nel pomeriggio cominciarono le nostre torture, presero la bambina e ci giocarono a pallone, portandola in uno stato comattoso, perdendo tanto sangue che non aveva più la forza da chiamare suo papà. Poi si sfogarono su mia moglie, malmenandola e percuotendola in modo che lascio la vostra immaginazione. Poi in 5 cominciarono a battermi col calcio del moschetto sulla testa e sulla schiena. Tutto ciò perché rivelassi dove avevo nascosto altri soldi e altro oro. Dopo aver conciato per bene me e mia moglie da far pietà, verso le 6, mentre pioveva a Catinelle, fumo condotti in via Niela, al comando partigiano, dove ci fu detto che a nostro carico non era emerso nulla. Nonostante ciò, fumo portati al carcere di Sant'Agostino, arbitrariamente da tale serra, nato a Spotorno e residente ora a Leggino. Mia moglie, dopo 12 giorni, fu rilasciata e si recò presso la sede comunista delle Fornaci, dove chiese le chiavi di casa, che dopo grandi insistenze le vennero restituite. Ma per poco, infatti, arrivò un certo ferro, abitante in via Bove, che per ordine della sezione del Partito Comunista Italiano delle Fornaci le riprese. L'indomani, mia moglie tornò al comando partigiano in via Montenotte e riebbe le chiavi di casa nostra, ma appena in casa entrò anche un caporione del Partito Comunista Italiano, tale Peragallo, abitante in via Tallone, 912, il quale sigillò tutte le camere, tranne la cucina e una cameretta. Il giorno 11 giugno, senza mai essere stato interrogato, fui liberato, appresi della uccisione della mia bambina, Pinuccia, ed ebbi un grande sconforto da questa notizia. Andai in questura e chiesi di far togliere i sigilli alle camere, cosa che fece un agente. A causa delle ruberie subite, l'intendenza di finanza mi corrispose un acconto di 150.000 lire. Gli animali che avevo, coniglie e galline, furono venduti ad un pubblico ristorante. Essendo senza lavoro ed indigente, venni assunto per compassione presso il consorzio ortofrutticolo dove percepivo il necessario per poter vivere con mia moglie e sua sorella. Era un periodo quasi sereno. Ma una notte, l'11 luglio 1945, un gruppo di persone tentò di forzare la porta di casa per prelevarmi e farmi fare la stessa fine di mia figlia e di molti altri. La porta per fortuna non c'è detta, e quella notte salvammo la vita. Per questo motivo abbiamo dovuto scappare all'alba come ladri, da casa nostra, dalla nostra città, senza mezzi e senza lavoro, vivendo per anni in povertà e miseria, pur sapendo che gli assassini della mia bambina di appena 13 anni vivevano nel lusso impuniti, onorati e riveriti, con i nostri soldi e di tutti quelli che erano morti o che erano dovuti scappare. Signor procuratore, mia figlia fu assassinata il 30 aprile del 45 dopo mezzanotte alle 4 del mattino a Leggino e fu portata al cimitero di Zinola e buttata come un sacco di patate nel mucchio dei morti ammazzati che tutte le notti riempivano il piazzale davanti al cimitero. Assieme a lei fu ammazzata Teresa Delfino, Vico Crema, 1 interno 1 Savona. Pare che l'autore degli assassini sia stato Gatti Pino di Pergeggi. Sono arrivato alla determinazione di sottoporre alla signoria vostra i fatti, affinché sia fatta luce su questa faccenda e vengano puniti i responsabili del delitto commesso in persona della mia bambina oltre che di tutti i furti che abbiamo dovuto subire. Sottoporre alla signora